Per me la laicità è la tolleranza, cioè il riconoscimento che la mia opinione vale quella delle altre persone. Però tutti insieme dobbiamo riconoscere che esiste una legge a cui tutti dobbiamo però rapportarci e dobbiamo obbedire a questa legge, comunque ci siamo dati. Allora tutti insieme il 3 ottobre in piazza del Canone a Milano per sostenere il concetto di laicità, tutti insieme, tutti con le opinioni differenti, ma tutti insieme il 3 ottobre. Freedom